buongiorno ben ritrovati siete su partecipiamo Taranto 100% partecipiamo una nuova puntata insieme insieme a me ci sono Alessandro Labriola Gisberto Nicoletti e partiamo ancora con le bellezze del nostro territorio parliamo di tante cose belle degli eventi degli spettacoli e di tante notizie e che oggi ovviamente di cui oggi vi parlerò qui saremo in diretta fino alle 12 potete seguirci dal canale 98 poi ovviamente dai 96.5 FM di Radio Cittadella su studio 100 punto it e su Radio Cittadella punto it e adesso si parte con la grande musica di Cittadella la radio ben ritrovati siete su 100% partecipiamo partecipiamo Taranto e adesso è arrivato il momento del nostro Jazz Pocket è una rubrica che è dedicata alle grandi star del jazz e do il piacere di avere in collegamento telefonico musicista jazzista Alberto Graziani ciao Alberto buongiorno ben trovato buongiorno a tutti voi ben ritrovati eccoci qua ancora una nuova puntata del nostro Jazz Pocket e oggi parliamo di due insomma chitarristi musicisti ecco adesso anticipato un po' troppo di due musicisti incredibili di chi parliamo oggi? Parliamo di Eddie Lang e Joe Venuti ricorderai che abbiamo abbiamo intrapreso in questo viaggio nei grandi gattisti italo-americani seguiamo un po' un ordine cronologico insomma oggi è arrivato il momento di parlare di questi due caposaldi della della storia del jazz esatto 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 di origine italiana che però hanno fatto la storia eh già eh già e allora di Lang eh lo pseudonimo di Salvatore Massaro nato il 25 ottobre 1902 chitarrista mentre Giovenuti Giuseppe Venuti eh nato nel 1903 il 16 settembre violinista sempre statunitense ovviamente parliamo di eh questi artisti di origini italiane poi che hanno avuto un grande successo in america è così alberto assolutamente dunque eh parliamo di musicisti della prima metà del novecento quindi parliamo degli anni trenta parliamo delle origini del jazz periodo eh in cui sono eh legati i grandi nomi delle grandi orchestre ehm oppure la scena New Orleans che comunque era caratterizzata da ensamble musicali piuttosto corposi piuttosto numerosi sì e eh ovviamente parliamo di due musicisti che hanno eh in qualche modo seguito anche loro questa strada però parallelamente hanno costruito una carriera eh diciamo eh in duo sì erano sostanzialmente compagni di scuola e amici di infanzia e hanno lavorato eh in duo per parecchio tempo in qualche modo creando un precedente che può essere considerato un modello per tutti i piccoli ensemble jazzistici dei periodi successivi parliamo per esempio che ne so dell'esperienza di Nat King Cole che ha suonato in piccole formazioni per tutta la sua carriera fino ad arrivare ai moderni piano trio o formazioni comunque ridotti sì ma infatti il contributo proprio di Leng no? Eh fu è stato innovativo e pianeristico proprio per questo tipo di di cose no? Cioè è stato definito all'interno comunque e a partire da piccole formazioni almeno in quegli anni certamente il modello era quello dello stride piano cioè questi due musicisti cercavano di riprodurre un po' questo stile pianistico derivante da ragtime dove insomma c'è Eddie Leng che sostanzialmente funziona come la mano sinistra del pianista e Joe Venuti invece fa la melodia quindi quindi la mano destra bisogna dire una cosa importante che il contributo di questi di questi due musicisti è stato riconosciuto nel suo vero speso specifico nella sua importanza piuttosto tardi cioè ovviamente loro erano grandi turnisti suonavano con le orchestre di Paul Whiteman con Eddie Leng era sostanzialmente il turnista d'eccellenza della chitarra di quel periodo ha suonato con Louis Armstrong ha suonato con Lonnie Johnson con tutti i grandi artisti del blues e del jazz però in realtà hanno creato questa esperienza che sostanzialmente è un po' un unicumo un punto di inizio che ha dato poi il via e questo gli è stato riconosciuto solo diciamo negli ultimi anni ecco parte della stereografia la musicologia statunitese dà una grandissima importanza a questi due artisti nella loro esperienza di duo certo poi diciamo no anche qualche piccolo aneddoto per esempio che giovenuti e tra i più noti come abbiamo detto tra i più noti esponenti del Dixieland e anche questo celebre violinista suonava anche in un club che era un club famoso l'Onix sulla 52esima strada a New York e quindi ci sono anche degli aneddoti di cui di cui parliamo noi ci piace anche fare questi riferimenti sai erano vicini di casa avevano queste storie un po' che chissà perché erano cioè quando la vita secondo me Alberto l'abbiamo anche detto l'abbiamo anche detto in altri just pocket e l'arte dell'incontro no e quando delle grandi personalità per cose della vita perché questi prima compagni di scuola poi dopo erano vicini di casa grandi amici fra loro grandi amici quindi nascono poi queste cose che a livello musicale poi fanno la storia perché di fatto quello di cui stiamo parlando è che è lo stile di del chitarrista e lo stile del violinista adesso per semplificarla no perché sappiamo che qua abbiamo degli appassionati del jazz quindi chi ci segue e anche chi non sa e quindi vuole sapere allora magari certe volte semplifichiamo le frasi c'era un chitarrista e un violinista stratosferici e hanno dato essendo quello insomma il periodo gli anni 30 no il momento in cui loro erano un po' più adulti essendo nati nei primi anni del novecento hanno dato così uno stile adesso noi ci fermiamo un attimo Alberto mandiamo la musica e continuiamo ancora a parlare di Eddie Lang e Joe Venuti qui nel nostro Jazz Pocket a tra poco a tra poco ben ritrovati siete su 100% partecipiamo su partecipiamo Taranto e adesso stiamo affrontando degli argomenti molto 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 belli perché nel nostro Jazz Pocket la rubrica dedicata agli amanti del jazz è chi vuole conoscere insomma un po' gli artisti e le grandi stelle del jazz con questi racconti delle loro vite del loro stile dei loro strumenti e lo facciamo insieme al musicista e jazzista Alberto Graziani eccoci Alberto siamo di nuovo in onda eccoci qui siamo in onda ci siamo quasi non lo sento però adesso entreremo in onda sicuramente tra pochissimo tra un minuto stiamo parlando di Eddie Lang e Joe Venuti sono insomma questi due musicisti stratosferici giovenuti vero nome Giuseppe Venuti nato a settembre il 16 settembre del 1903 e a Siat a Philadelphia ed è stato un violinista statunitense di origine italiana e insomma ha iniziato pensate lui ha iniziato così violinista e suo nonno era è stato tra i primi insegnanti di violino all'età di sei anni ed è considerato uno degli strumentisti più innovativi a livello stilistico del violino nel jazz per gran parte della sua carriera ovviamente ha suonato con Eddie Lang era suo vicino di casa compagno di scuola e grande grande amico Eddie Lang un stratosferico chitarrista come il nostro Alberto Graziani che è chitarrista eccoci Alberto siamo di nuovo in onda ci sei? Non esageriamo Anna non sono come Eddie non sei va bene non esageriamo ma perché no sei un incredibile chitarrista certo Eddie Lang è di Lang Alberto Graziani parliamo parliamo di del primo grande chitarrista della Sera del Geno magari parliamo diciamo anche due parole sulla fortuna di questi due sì di questi due volentieri allora purtroppo Eddie Lang è bevita breve perché morì a causa delle conseguenze di un intervento alle consile per cui insomma una cosa che sembra quasi un'operazione di routine per noi all'epoca poteva purtroppo costare la vita però diciamo che ha avuto una gloria postma al punto che a a Monte Roduni in provincia di Zernia dove sono nati i suoi genitori ogni anno si celebra un festival in suo nome dove appunto sono invitati i più grandi chitarristi contemporanei ovviamente quindi insomma quanto meno a livello post moglie sta per riconosciuto il merito che era dovuto certo certo invece la vita di Giovenuti è stata piuttosto lunga e lui è andato avanti a suonare come un po' diciamo una diciamo così una vecchia gloria del Dixon fino alla fine della sua vita è mancato negli anni negli anni 80 del 900 e lui negli anni 70 ha vissuto a Milano e ancora tanti musicisti lo ricordano perché partecipava alle alle jam session del glorioso capolinea del capolinea come no certo sui navini importantissimo no quindi io ancora oggi suono con un ormai anziano batterista che si chiama Sergio Ceci Chiesa che ogni volta che andiamo a suonare si vanta di aver suonato è certo con Giovenuti beh è vero tra le altre cose lui ha collaborato Giovenuti anche con in alcune incisioni dico anche con Patruno, Lino Patruno, Guido Manosardi certo certo assolutamente assolutamente sì 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 ha fatto proprio una carriera da musicista in quel decennio degli anni 80 un'altra cosa estremamente significativa dobbiamo dire parlando di Eddie Graham e Giovenuti è che hanno avuto la per tutta la storia del jazz come abbiamo detto per piccole formazioni ma soprattutto sono stati il modello per cui l'immenso Django Reinhardt ha costruito il suo progetto musicale no? è certo assolutamente quindi con la chitarra accanto al violino di? 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 il violino di? il violinista era? era ste? era stefan grappellino ovviamente il violinista mamma mia che meraviglia mi fanno morire proprio una roba pazzesca Django Stefano diciamo che sì sì no scusa mi scusa mi no 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 vai 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 continuo Alberto perché io ti ascolterei per ora manca pochissimo però ti ascolterei no è per dare qualche elemento per apprezzare questa musica che ovviamente noi vi invitiamo ad ascoltare nel caso del duo di Eddie Heleng e Giovenuti veramente la Giovenuti il solista e la chitarra di Eddie Heleng ha un ruolo contrapuntistico mentre nel caso di Django Reinhardt ovviamente è lì la chitarra la fa da padrone diciamo lì è proprio lo strumento lo strumento in assoluto ci sono dei pezzi che possiamo consigliare prima di chiudere Alberto? allora non l'abbiamo sentito? ripeti doing things ok 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 il titolo di un brano molto molto celebre forse il più celebre dei due ma se voi fate una ricerca online ci sono tutte le incisioni che ovviamente sono raccolte appunto in delle raccolte perché erano pubblicati come singoli all'epoca ok ok perfetto è benissimo Alberto io ti ringrazio come al solito per questo appuntamento bellissimo del Jazz Pocket e ci rivediamo alla prossima bellissimo e rinunciabile anche per me assolutamente ci rivediamo alla prossima Laura un abbraccio buon fine settimana alla prossima ciao Alberto un abbraccio a tutti grazie ciao e adesso linea alla regia tra poco eccoci amici ben ritrovati 100% partecipiamo partecipiamo Taranto e adesso parliamo della nostra rubrica dedicata agli animali del territorio e alla loro tutela e lo facciamo insieme all'avvocato Andrea De Palma che è qui in videocollegamento buongiorno Andrea ben trovato buongiorno ben trovato a te ben trovato a te allora noi affrontiamo in questa rubrica da tanto tempo ormai gli animali del territorio con particolare attenzione perché tu sei un bear watcher giusto? ti piace? sì anche ecco per tutti anche gli appassionati di questo quindi chi fa bear watching a noi piace guardare così un po' siamo col naso all'insù certe volte quindi guardiamo verso il cielo e scopriamo che c'è un mondo incredibile e oltre a quello anche a tutti quanti gli animali del territorio e in alcuni periodi dell'anno ci concentriamo proprio sul ciclo della natura e Andrea adesso oggi di cosa parliamo? allora oggi volevo parlare dell'imprinting l'ultima volta che ci siamo sentiti avevamo parlato se ricordi delle migrazioni e come tu stessa dici sulle nostre teste a volte passa veramente di tutto dobbiamo soltanto magari essere un po' più attenti ad osservare il mondo che ci circonda e l'imprinting è un qualcosa che comunque è legato proprio ai comportamenti degli animali del resto la stessa parola deriva dall'inglese imprint cioè lasciare una traccia e che cosa è l'imprinting sulla base degli studi su tutto del del notissimo etologo Lorenz sono dei comportamenti che gli animali acquisiscono e non sono dei comportamenti né del tutto innati se ricordi abbiamo parlato più volte dei rondoni ad esempio come comportamento innato che sono con i giovani che vengono lasciati al nido e sono dagli adulti che migrano antecedentemente a questi ultimi ai giovani stessi e sono assolutamente in grado poi di spiccare il volo di plare e autonomamente di raggiungere l'Africa subsahariana da soli quindi non è questo tipo di comportamento non è neanche uno di quei tipi di comportamenti prettamente acquisiti faccio ora l'esempio dei nostri cani dico per dire sai quando si dice dammi la zampa quale zampa lo si riesce ad insegnare anche nel corso della vita dell'animale in questo caso del cane sfruttando una serie di caratteristiche tipiche di questo animale a livello intellettivo l'implanting invece è un comportamento che viene appunto stampato ecco e si ritorna all'origine della parola di norma entro le prime 36 ore di vita di questo di questo animale e ovviamente questo si verifica perché quando nascono gli animali presentano una sorta di rappresentazione a livello di sistema prettamente nervoso che consente di loro di immediatamente di apprendere determinate determinati comportamenti che loro svolgono certo esatto facciamo proprio degli esempi banali il cuculo o cuculo molti ne abbiamo sentito parlare tantissimo è un animale che sostanzialmente vede gli adulti compiere degli episodi a livello di come se fossero quasi di parassiti cioè cleptoparassitano altri determinati nidi di altri uccelli perché gli adulti non sono di fatto predisposti all'allevamento della prole il giovane nato automaticamente riconoscerà pur essendo di una specie diversa i genitori del nido nel quale il cuculo ha deposto le proprie uova come genitori e allo stesso tempo va anche chiedito che il genitore visionando esclusivamente quello come figlio c'è il figlio non proprio perché purtroppo poi il giovane del cuculo tende purtroppo ad eliminare i propri rivali al nido ed essere poi di fatto ludico ad essere svezzato dai genitori quindi si crea questo strano rapporto per cui sostanzialmente il giovane nato identificherà il genitore pur appartenendo ad una specie diversa come tale e come genitore ho un altro esempio tanto per dirne una altri tipi di animali sempre rimanendo nel tema degli uccelli come le cimio o le anatre in generale quando sono molto piccoli sono molto più confidenti quindi tendono a dare confidenza non solo ai genitori ma anche a tutto l'ambiente che li circonda e questo può essere pericoloso successivamente tenderanno ad identificare il genitore come unico punto di riferimento e questo gli è utile perché altrimenti non potrebbero distinguere un predatore da un punto di riferimento certo vanno così a finire in bocca al lupo a me è successo da piccolina con in una masseria con una paperetta che questa mi ha visto non lo so cosa che ho visto ho iniziato a seguirmi ma questa mi seguiva dappertutto era una cosa di spazio ero piccola mi ricordo questa incredibile esperienza con questo questa paperettina gialla sai proprio una duck duck paperina una paperetta che mi seguiva ovunque io dicevo ma perché mi seguo perché mi seguo quindi questo è l'imprinting che evidentemente lei aveva avuto con me grazie Andrea grazie se ti avesse vista nascere se tu fossi stata la prima cosa che le avesse vista la nascita ti avrebbe di fatto identificato come la madre e quindi avrebbe seguito te identificandosi quella e mia mamma mamma mia che bello che bello l'imprinting però è un imprinting che hanno gli animali nella natura così come inevitabilmente poi ce l'abbiamo questi poi sarebbero altri discorsi però ce l'abbiamo anche noi esseri umani perché insomma in qualche modo è una cosa che appartiene anche a determinati tipi di studi che fanno parte della psicologia grazie Andrea De Palma come al solito per la nostra rubrica dedicata agli animali del territorio e la loro tutela e ricordiamo sempre in chiusura che se vediamo degli animali in difficoltà nel nostro territorio dobbiamo sempre chiamare le autorità competenti assolutamente sì le autorità grazie grazie a te grazie ciao ciao grazie siete su 100% partecipiamo partecipiamo Taranto canale 98 studio100.it radio cittadella.it siete sintonizzati su 96.5 FM adesso parliamo di questa sera perché presso il teatro comunale Fusco a Taranto come anteprima del Taranto Eco Film Festival sarà celebrato il centenario dalla nascita di Marcello Mastroianni con la proiezione speciale di otto e mezzo film di Federico Fellini in versione restaurata dalla Cineteca Nazionale la serata sarà aperta dalla sonorizzazione dal vivo di cenere del 1916 di Febo Mari unica apparizione di Eleonora Duse sul grande schermo con i musicisti Marcello Allulli Al Sax e Giovanni Ceccarelli a pianoforte ma noi vogliamo saperne di più ed è per questo che entriamo in collegamento video con Gemma Lanzo ciao Gemma buongiorno ben trovata ciao Annette grazie 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 dello spazio che ci dedicate si hai detto hai raccontato perfettamente la serata che ci aspetta io volevo solo anticipare dire che questa è un'anteprima è l'anteprima del Taranto Ipo Film Festival che si terrà dal 17 al 21 novembre proprio qui al Teatro Fusco e questa sera daremo una piccola anticipazione su quella che sarà in realtà la novità dell'edizione di questo di quest'anno del festival perché dedicheremo spazio molto spazio alle sonorizzazioni dal vivo e per cui ci saranno tanti musicisti del panorama internazionale film e musicisti che suonano dal vivo esatto questa è la novità del Taranto Eco Film Festival ripeto dal 17 al 21 Anette una cosa che io voglio dire che è molto importante sì sì e anche che questo festival è organizzato da LAPS è coorganizzato dal comune di Taranto e rientra nel network dei festival di Apulia Film Commission insieme a tanti festival bellissimi che girano per la Puglia tra cui il festival del Cine Europeo che sarà a breve al Necce appunto per cui siamo molto orgogliosi di far parte di questo network che ci dà la possibilità di portare a Taranto artisti musicisti e naturalmente registi e film che raramente si vedono al cinema infatti 8 e mezzo di Federico Fellini in versione restaurata credo che in pochi abbiano avuto la possibilità di vederla appunto sul grande schermo io faccio ora stiamo facendo le prove stiamo facendo le prove naturalmente anche del film le prove audio video e anche della musica che ci sarà appunto stasera noi Gemma ti sentiamo di meno forse perché a mano a mano che entri nel teatro si perde un po' la linea puoi per favore ritornare dove eri nel senso che all'ingresso proprio del teatro dove ci sono le tende rosse così anche da lì possiamo vedere quello che accade alle tue spalle sì 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 proprio così ok lì va benissimo puoi girarti ecco e farci vedere all'interno se tu ti giri noi ci vediamo vediamo quello che accade alle tue spalle e adesso è arrivato il pianoforte lo stanno accordando esatto per questa sera che bello poi ci saranno ovviamente le prove più tardi così sì sì assolutamente per cui vi aspetto tutti questa è una festa secondo me per Taranto sono momenti di crescita poi perché sono cose che naturalmente non abbiamo la possibilità di vedere tutti i giorni e per me è un grande piacere c'è un prezzo simbolico perché l'ingresso è 5 euro un prezzo politico esatto prezzo politico prezzo politico e questo ci tengo 5 euro 5 euro assolutamente il biglietto va va più che bene grazie grazie a Gemma Lanzo grazie ancora buon lavoro e a questa sera ciao arrivederci grazie a voi grazie a questa sera buon lavoro e adesso lì nella regia tra poco ben ritrovati siete su partecipiamo Taranto 100% partecipiamo canale 98 96.5 FM e adesso parliamo del Taras Teatro Festival un bilancio un grande bilancio perché con il sold out per la Medea di Euripide interpretata da Valeria Cimaglia si è conclusa la seconda edizione del Taras Teatro Festival scena antica e visioni contemporanee oltre mille presenze per una settimana dedicata al teatro spettacoli incontri culturali presentazione di libri masterclass e un laboratorio di alta formazione per attori professionisti la Kermess è prodotta da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il Crest la direzione artistica e del regista e attore Massimo Cimaglia tutti gli appuntamenti si sono tenuti nell'auditorium Tata di Taranto nel foyer e i talk e gli incontri con autori protagonisti del festival sul palco gli spettacoli nomi eccellenti della scena nazionale e internazionale si sono alternati a Taranto il maestro Peter Stein le attrici Maddalena Crippa Elisabetta Pozzi Elena Arvigo e ancora la storica e studiosa Eva Cantarella insieme al professor Pier Franco Bruni e ad alcune protagoniste femminili del territorio un'edizione dal tema la scena delle donne dedicata a Eleonora Duse di cui ricorre il centenario dalla morte il Taras Teatro Festival è stato arricchito anche da eventi collaterali del Taras Culture Festival incontri su storia e sul ruolo delle donne sulla tradizione sportiva di ieri e di oggi e la presentazione del libro Gli Spartani di Barbara Gizzi altra colonna portante del Taranto Taras Teatro Festival dal 2024 il laboratorio di alta formazione per 15 attori professionisti selezionati tra 60 candidature arrivate da tutta Italia guidati dai maestri Melania Giglio Dario Laferla Elisabetta Pozzi Elena Arvigo il Taras Teatro Festival è vincitore dell'avviso pubblico Futura alla Puglia per la parità del Consiglio regionale della Puglia e si avvale del contributo del Comune di Taranto e del sostegno di Teleperformance Fondazione Taranto 25 BCC di Bari e Taranto il Taras Culture Festival è finanziato dal Consiglio regionale della Puglia e i partner sono stati Martà convegno di studi sulla Magna Grecia soprintendenza patrimonio culturale subacqueo comando interregionale marittimo sud Università Altomoro Bari Inda Isam e Cavalieri Deliterre Tarantine Bottega Cosimo Vestita Amici dei Musei ICC Taranto Musei Institute of Sparta e questo è un grande bilancio per il Taras Teatro Festival siamo insomma felici di questa grande seconda edizione e ovviamente non vediamo l'ora di assistere anche alla programmazione della prossima edizione Amici vi ricordo che se volete potete seguire i nostri canali social noi siamo presenti su Facebook e su Instagram ovviamente abbiamo i siti da cui potete seguirci in streaming quindi studio100.it radio cittadella.it siamo presenti anche sul canale 98 e sui 96.5 FM scriveteci mandateci i vostri commenti potete segnalarci qualsiasi cosa anche sui social perché noi siamo felici ovviamente di rispondere alle vostre domande sempre saremo ancora in diretta a fine leo 12 adesso spazio alla regia tra poco ben ritrovati studio100 canale 98 100% partecipiamo partecipiamo Taranto 96.5 FM adesso la nostra rubrica di cucina insomma sono le 11.36 e dobbiamo pur capire quello che si mangerà oggi insieme al nostro chef Anthony la terza ciao Anthony ben trovato buongiorno ciao Anette buongiorno buongiorno come stai? bene bene poi quando ti sento non lo so mi viene su quell'aria un po' frizzantina sai quella cosa che dici ma chissà cosa ci ha preparato di buona oggi Anthony non mi dire l'acqualina in bocca anche dai alla fine no no che alla fine alla fine altro che poi quando veniamo a mangiare da te da fratelli Filetto altro che allora Anthony eh sì cosa ci prepari di buono? un grande classicone della cucina salentina quest'oggi un bel cicerettria buono col peperoncino come stiamo esatto poi adesso ti svelo un piccolo segreto lì ti svelo un piccolo segreto e visto che stiamo all'interno di partecipiamo no? quindi facciamo facciamo un qualche cosa in cui possiamo partecipare un po' di persone a fare questa preparazione qua esatto allora bravo hai colto il senso della puntata della trasmissione bravo vai Anthony dici tutto siamo tutti orecchi ok allora diciamo innanzitutto che questa è una ricetta che perde un po' la storia della stessa nella 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 notte dei tempi perdonami un pochettino sto cesticando no nella notte dei tempi addirittura ci sono delle tracce di di ricette romane dove invece di friggere o invece di lessare la pasta loro la arrostivano e da qui la tria doveva essere un attrezzo che serviva per poter arrostire utilizzavano questa questo questo marchigegno per poter tostare la loro pasta e l'accompagnavano insieme ai legumi ok sì poi facciamo un balzo in avanti ai giorni nostri dove qui apro e chiudo una parentesi parliamo un po' della preparazione dei legumi dove devono essere preventivamente ammollate magari il giorno prima una punta di bicarbonato aiuta un po' a intenerire la parte esterna del del legume stesso forse l'unico legume che non ha bisogno di essere ammollato preventivamente sono le ventiche però un po' tutti quanti hanno bisogno di un di un tempo di ammollo bene il giorno successivo li andiamo a cuocere questi questi legumi in particolare i nostri ceci a secondo della tipologia dei legumi abbiamo differenti cotture il cecio ha un pochettino di più siamo attorno a un'ora e tre quarti due ore accompagniamo con abbondante acqua chiedono carota e cipolla uno sticchio d'aglio dell'alloro e profumi vari che possono essere rosmarino saldo quello che un po' piace non mettiamo il sale perché altrimenti rischiamo di ritardare la cottura del legume stesso ok sì una volta che nel frattempo che si sta cucinando magari partecipando con qualcuno possiamo preparare la pasta esatto acqua e farina corretto acqua e farina assolutamente noi siamo salentini uova non le utilizziamo acqua e farina farina di grano duro magari un mix di farina doppio zero e grano duro se eventualmente abbiamo quella avena poetica e artistica proprio della cucina possiamo aggiungerci anche della farina di farro possiamo aggiungerci anche una farina di grano saraceno oppure di esattamente oppure rimanendo nei nostri territori di grano arso così arricchiamo ulteriormente sì la pasta la andiamo a tirare un po' più spesso rispetto a una tagliatella sì ok è un po' greggia se rimane anche diciamo tagliata grossolanamente non fa niente va bene va bene lo stesso anche un po' ruida può restare vero non è che bisogna poi trattarla tanto se no deve rimanere ruvida così assorbe un po' tutti gli umori del legume spesso bene una volta che abbiamo tirato la nostra pasta abbiamo fatto tutto una parte di questa la andiamo a friggere l'altra parte la andiamo a lessare non lessiamo nell'acqua dei legume perché altrimenti rischiamo di fare una poltiglia facciamo solo separatamente in una casseruola sedano carote cipolla tagliata sottile sottile detta brunoire come diciamo noi un po' di peperoncino uno spicchietto d'aglio e colpo di scena anche una piccola punta di ricotta forza per dare uno sprint in più ecco il segreto hai visto hai visto che è riuscito fuori il segreto ok mettiamo questi questi ceci dentro una parte li andiamo a frullare per rendere cremosa una volta che la tagliatella è pronta stiamo parlando di appena due minuti li andiamo a mettere all'interno di questa preparazione per andare a prendere i gusti del legume strano ma vero ma non possiamo anche rimanere fuori dal fuoco anche per una mezz'oretta così va ad arricchirsi ulteriormente la parte fritta all'ultimo momento la andiamo a fare e impiattiamo questi legumi cecio in particolare con la tagliatella con la pasta la parte fritta la mettiamo sopra aggiungiamo un filo d'olio ed eventualmente battuto di erbe aromatiche che più ci piace e buon appetito e buon appetito questo piatto al bacio proprio di quelli nostri nostri tradizionali una roba incredibile Anthony che meraviglia ci hai fatto sognare anche oggi ci è venuta l'acquolina però almeno abbiamo un'idea di come fare di come fare questo piatto che è un piatto della nostra tradizione che è un piatto tipico e che è buonissimo io lo mangio molto 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 piccante però anche con appena appena un po' di piccante va bene va super bene poi c'è quella magia di preparare che è molto semplice una pasta semplice che possono fare tutti con acqua e farina come ho detto magari con varie farine però è semplice perché la stendi poi la tagli così grossolanamente è pronta cosa ci metti 5 minuti 6 minuti a preparare una roba del genere ma assolutamente se facciamo una piccola quantità ci vuole veramente ma poi vuoi mettere il gusto di mangiare così eh ragazzi trattiamoci bene trattiamoci bene grazie Anthony la terza alla prossima un abbraccio buon weekend buona giornata a tutti ciao grazie anche a te ciao lì nella regia tra poco ben ritrovati siete su 100% partecipiamo questa è studio 100 canale 98 partecipiamo taranto 96.5 FM radio cittadela.it studio 100.it adesso parliamo di rethink a taranto per la quarta volta il circular economy forum aziende istruzioni istituzioni start up e denti di ricerca a confronto e oggi il programma è iniziato alle 9 e 30 e sta continuando è ancora in corso si parlerà della città di Taranto come un laboratorio vivente per migliorare il benessere dell'ecosistema con Calliope e ancora infrastrutture di ricerca Enea per il recupero la valorizzazione dei materiali dai rifiuti plastici con Enea e quando i sedimenti marini dragati incontrano i gusci di Mitoli una storia di ingegneria da raccontare con il Politecnico di Bari e tante attività a seguire per tutta quanta la giornata finiscono le attività alle 13 con il tavolo programmatico con Regione Puglia Comune di Taranto Eni e Nerafineria Taranto Confindustria Taranto Gal Magna Grecia moderato da Tondo Francesco Castellano e adesso vediamo il servizio di Valentina Castellaneta Rating giorno 2 ieri mattina le protagoniste del Circular Bootcamp organizzato da Eni Giaul e Confindustria Taranto sono state le start-up le piccole e medie imprese le aziende locali le grandi aziende ma anche i mentor economici che si sono confrontati su tematiche riguardanti non solo l'economia circolare ma anche la transizione energetica infatti seduti a tavoli circolari appunto hanno discusso per creare un ecosistema economico innovativo per il territorio Domenica Surace lavora in Giaul la scuola di Eni per le imprese ed è responsabile proprio delle attività di monitoraggio reporting e valutazione di impatto e spiega che l'intenzione era proprio creare un momento di confronto su tematiche e problematiche quotidiane con l'obiettivo di creare sinergie condivisione scambi di opinioni volti a migliorare quello che è l'ecosistema locale dell'innovazione diverse velocità tra pubblico e privato reperimento fondi e creazioni di infrastrutture e comunicazioni fraenti erano queste le problematiche più gettonate per le nuove imprese presenti come per quelle più navigate per le start up la parola non poteva che essere di Faros e della responsabile Lavinia Carrese in questo momento sicuramente la parte di ricerca fondi ricerca investimenti è sfidante e in questo momento storico e anche quella di da una parola come può nascere oggi far crescere progetti nuove realtà nuove attività mancanza di infrastrutture e interoperosità quindi passaggio di dati tra enti e l'argomento toccato da Felicia Nacatino responsabile del CTE Calliope infatti è quello su cui abbiamo lavorato profondamente sia per far interoperare quello che è a disposizione degli enti che siano nel nostro caso specifico i dati piuttosto che le opportunità oltre che l'interoperabilità in senso lato quindi proprio la collaborazione problematiche difficili da affrontare da soli ma un circular bootcamp serve anche a dare la possibilità di conoscere l'ecosistema economico in cui ci si vuole insediare e permette di stringere sinergie per superare insieme gli ostacoli e questo era ciò che accadeva ieri grazie a Valentina Castellaneta per il servizio adesso amici è arrivato il momento di salutarci vi lascio in comunità di tutti quanti i programmi qui su Studio 100 ma anche su Radio Cittadella l'appuntamento è a lunedì vi ringrazio per essere stati con noi grazie a Gisberto Nicoletti e ad Alessandro Albriola alla regia e alla parte tecnica noi ci rivediamo lunedì grazie per averci seguito e un buon weekend a tutti da Anette ciao